I miei carini, noi non siamo qua! Andiamo a cuore con me, e vediamo la domenica della Commissione, a rientrare la presenza, a cento, a non perdere il nascosto, e gli accetteremo con la testa. Aveva ragione, come non mi stai, non mi stai spiegando! Sarà la settimana, in generale, in generale, in generale, solo, un po' di spese, professionista scartile Bruno Bokalupov! Chiado, 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 chiado! Chiado, chiado, chiado... Certo, Alla, sedi centimetri, però da te 4 справini, giado nazionale, patto, in pura e sul lupo, Lukas Stavrowski! Sì, 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 sì! Grazie per la visione!